La mostra apre, come avete visto, non con la prima opera dipinta e conosciuta, ma con un'opera del Tintoretto 29enne e quindi nella sua prima maturità, affiancata a un autoritratto giovanile che è dello stesso momento in cui Tintoretto dipinge il miracolo dello schiavo. La mostra si apre con Tintoretto vivente, nell'autoritratto che ci concede, e il suo capolavoro, in cui c'è una sintesi di quello che è l'argomento di questa nostra conversazione, cioè il tema della maniera. E quindi la mostra inizia con il maestro di bottega di Tintoretto, che non è Tiziano, ma è Bonifacio dei Pitati. Non è difficile trovare opere di questo molto plorifico autore, che era come il riferimento, il maestro naturale di due geni, mentre lui genio non è, Tintoretto e Bassano, i quali da lui prendono tutto quello che Tiziano non gli può più dare, perché Tiziano ormai è chiuso nella sua visione autoreferenziale, quindi prendono e da lui, dai colori, alle composizioni, anche alla disponibilità a essere curiosi, partono da questa bottega e cominciano a guardare. L'opera che abbiamo esposta è Gesù fra i dottori del Museo del Duomo, come una meravigliosa scenografia con le colonne che si muovono proprio nello stesso gusto di Giulio Romano, quindi architetto e anche di Palladio, che in questi anni esordisce e, come vedete con questa figura femminile, come Repussoir e quest'altro dottore, costruisce questa macchina meravigliosa che sembra una sceneggiatura per canzonissima, una scenografia per canzonissima o per, cioè l'idea di una cosa molto televisiva, molto cinematografica. I soffitti per la casa di Francesco Vettori, che vediamo qua, che sono proprio la dimostrazione di una specie di calco su Giulio Romano tradotto in colore sanguigno veneziano, quindi c'è il colore veneziano e quello che Tiziano non sarebbe mai riuscito a fare, cioè di accettare tranquillamente queste forme monumentali che vengono da Giulio Romano e quindi da Michelangelo e tradurle in una linfa veneta. De Mio è un pittore nato a Schio, che poi vivrà qualche tempo della sua vita a Torbole vicino al lago di Garda, il quale, stando in quella posizione tra Lombardia e Veneto, occhieggia un po' di pittori bresciani, un po' di pittori ferroresi, un po' di Giulio Romano e molto di Parmigianino. Lui produce quest'opera in cui si vede la Madonna molto parmigianinesca, si vede la figura centrale che è molto alla Giulio Romano, la figura di destra che richiama ancora Parmigianino, si sente anche un'aria un po' dei pittori ferroresi che hanno visto Raffaello come Garofalo e insomma questo pittore, che si intrude anche a Venezia, sarà un buon amico di Tintoretto. Sustris, certamente l'autore del Calvario di Brera, questo bellissimo dipinto che fa intendere sia i rapporti con Parmigianino, evidentissimi nella figura di destra, quella donna piangente, sia nella corazza di questo armigero che sta a sinistra, sia in questa apertura di paesaggio, come un pittore olandese che viene a Venezia, che guarda Tiziano, è curioso di Parmigianino e lo sussume nella sua lingua pittorica. Questo meraviglioso dipinto, che è più bello di qualunque Tintoretto e che è l'opera di un genio assoluto, è la testimonianza di Bassano nella sintesi di Giulio Romano, Parmigianino, Sustris, che per colto suo nella solitudine di Bassano e a Venezia faceva, così come Tintoretto la faceva, con il suo estro più esuberante, con il suo divertimento, con la sua volontà di affermazione, sono i due volti, le due risposte della crisi veneziana intorno al 1538-40, quella da cui esce suonato Tiziano e escono i due più grandi pittori di quel momento che sono Tintoretto e Bassano, un pochino dopo arriverà a veronese. E qui vedete, qui siamo veramente, vedete la data, vedete questa impressionante composizione in cui c'è tutto e c'è questa composizione, vedete in un movimento senza precedenti, mai Tiziano aveva concepito un'opera come questa. Si vede Giulio Romano, si vede questa enfasi che viene da Michelangelo, si vede quella figura di spalle, vedete, con quella corazza rossa, quella maglia rossa che è un po' come le maglie strette che abbiamo visto in Sustris, vedete questa visione di sotto in su, insomma, vedete, e poi questa prospettiva sbarrata che guarderà lo stesso Paolo Veronese, antagonista di Tintoretto, nella decorazione sul fondo che è chiaramente una citazione, una premonizione palladiana. Poi vedete quello che è il santo che arriva di sotto in su, insomma, un quadro in cui tutto quello che ho accennato fin qua e tutte queste diverse fonti di ispirazione si sintetizzano in un capolavoro come questo.